ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andiamo insieme a realizzare questo meraviglioso bordo decorativo doppio che ci permette andare a riprodurre il numero 8 è un bordo che ha due lati questa è la parte da davanti come si presenta molto bello molto fine guardate che spettacolo è la parte da dietro che a sua volta si presenta in modo molto bello con questo stacco a rovescio è un bordo che possiamo andare ad adattare per i vari progetti in quanto si presta molto bene per i diversi tipi anche di filato è un bordo che ci permette andare aggiungere un tocco particolare al nostro progetto e andare a creare un bordo sicuro robusto appunto giusto e appunto decorativo particolare questo è un bordo che non ha un multiplo di male specifiche perciò noi ora andiamo a avviare il numero delle mali e quanto ci basta così provvisorio giusto per far vedere l'avvio perciò non è un multiplo di pari o dispari quindi andiamo avviare quanto basta per il nostro progetto noi per l'avvio abbiamo utilizzato avvio alla nordica e abbiamo avviato un po di mali giusto per riuscire a far vedere bene tutti i passaggi partiamo con la lavorazione e creazione del nostro bordo la lavorazione e creazione del bordo parte dal primo ferro e anche dalla prima maglia quindi anche la maglia di vivagno partecipa nella nostra lavorazione dobbiamo andare entrare nell'asola della prima maglia per lavorarla a diritto ma entrando dal dal di dietro quindi facendo questo diritto ritorto quindi noi creiamo un diritto entrando da di dietro la prima maglia poi andiamo fare il nostro aumento in questo modo particolare andiamo creare un gettato passando da di dietro con il nostro ferro dopodiché andiamo lavorare la maglia a diritto ritorto perché entriamo dalla da di dietro vedete nel nostro modo noi entriamo da di dietro subito dopo andiamo fare un aumento quindi stiamo facendo raddoppiamo il numero delle delle maglia e aumentano e aumentano e aumentano eOTH e secondo le maglie e aumentano e lo andiamo a creare con il gettato che prima andiamo sotto agganciamo e lavoriamo e la successiva maglia e lo andiamo lavorare a diritto entrando da di dietro una volta che abbiamo fatto una lavorazione a diritto andiamo creare un aumento in questo modo e così procediamo per tutto il ferro una maglia lavorata la seconda aumento del gettato passando da di sotto ecco che siamo arrivati al fine del primo ferro e anche qui concludiamo il gettato la maglia lavorata a diritto entrato da di dietro la nostra maglia di vivagno sempre lavorata a diritto ed ecco che abbiamo fatto primo ferro ora il secondo ferro del nostro bordo decorativo e anche qui partiamo subito dalla lavorazione della prima maglia perciò anche la maglia di vivagno in questo bordo partecipa andiamo lavorare la maglia a vivagno a diritto quindi a diritto entrando da di dietro e guardiamo abbiamo una maglia normale e la andiamo lavorare a diritto sempre come prima entrando da dietro subito dopo abbiamo la maglia che abbiamo creato con il nostro gettato particolare la andiamo spostare ma la spostiamo tenendo filo da davanti non la lavoriamo spostiamo dopodiché riprendiamo il nostro filo e andiamo lavorare la maglia che si presenta lavorata normale sempre a diritto da di dietro successiva maglia la spostiamo però prima di spostare facciamo cadere il filo davanti come se dovessimo andare lavorare una maglia a rovescio e così andiamo alternare per tutto il ferro numero 2 lavoriamo la maglia a diritto la successiva la spostiamo con il filo da davanti come se dovessimo andare lavorare un rovescio e così tutto il ferro numero 2 ed ecco che siamo infine del ferro numero 2 e facciamo la stessa cosa la maglia realizzato con gettato spostiamo le mali normali lavoriamo a diritto anche il vivagno la lavoriamo a diritto ma entrando da di dietro ed ecco che abbiamo fatto il secondo ferro il ferro numero 3 e anche l'ultimo ferro del nostro bordo in questo ferro noi dobbiamo andare riportare al numero originale le nostre malie perché finora nel primo li abbiamo raddoppiati nel secondo abbiamo mantenuto nel terzo li andiamo a riportare al numero originale la maglia di vivagno la andiamo lavorare a diritto entrando da di dietro normalmente subito dopo abbiamo un gettato e una maglia normale e entriamo nelle due e da due ne andiamo a creare un'unica maglia quindi facciamo la diminuzione lavorata a diritto guardate in due e da due ne creiamo una entriamo in due da una creiamo una facendo così noi diminuiamo le nostre malie le riportiamo al numero originale perciò noi andiamo lavorare la maglia lavorata portata avanti normalmente e la maglia realizzata con il gettato e così procediamo per tutto il terzo ferro e ultimo ferro del bordo decorativo ed ecco che stiamo arrivando al fine del terzo ferro e andiamo anche qui fare una diminuzione delle maglie e la maglia di vivagno la andiamo lavorare a diritto da di dietro normalmente come abbiamo fatto per tutti questi tre ferri ed ecco qui il nostro bordo decorativo doppio è pronto ora possiamo andare applicare il nostro motivo scelto per il progetto guardate che meraviglia guardate che finezza e con che facilità appunto si realizza questo bellissimo bordo speriamo che siamo riusciti a spiegarvi bene tutti i passaggi in modo chiaro che questo tutorial sia utile se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissimi altri novità in arrivo in più non dimenticate attivare la campanella per ricevere le notifiche quando esce appunto un nuovo video tutorial in più potete venire a trovarci anche su facebook dove abbiamo sia la pagina che il gruppo a noi farebbe veramente piacere vedervi numerosi a venire condividere le vostre creazioni grazie per aver seguito questo tutorial al prossimo video tutorial